Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per incidente verso Roma tra Valdarno e Arezzo, in A11 con i attratti verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze per Edole, tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1. In Scipili con i attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla Faentina per lavori sulla linea, il treno 18892 Faenza-Firenze, quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano un treno straordinario appositamente predisposto. Segnalami inoltre presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Ponte d'Era, i treni in linea potranno subire ritardi o variazioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che sono in corso lavori di asfaltatura in vista del Tour de France, in settimana su Viale Fratelli Rosselli e Piazzale di Porta al Prato. Muoversi in Toscana in fa un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!